C'è una regoloscenza del virus? Sì. C'è una fase dove la variante Delta si fa presente anche nella nostra regione? Sì. Ci sono sicuramente dei segnali che ci inducono all'attenzione nella regione Marche e in Italia, ma credo che bisogna anche dare un segnale in pieno mese di luglio, alle porte del mese di agosto un segnale di fiducia. Se non c'è questo messaggio di fiducia è chiaro che rischiamo di compromettere mezza della stagione più importante che quella estiva. Non ci dimentichiamo che veniamo da sei mesi di chiusura, sette mesi di chiusura importante, non ci dimentichiamo che questo è il secondo anno. In questo senso credo che alcune scelte potevano essere più oggettive e credo meno ideologiche. Questo non significa che vogliamo dare un messaggio negativo. Io credo che il Green Pass doveva essere un'iniziativa da prendere per le grandi manifestazioni. Doveva essere un'iniziativa da mettere in campo nella stagione estiva per tutte quelle occasioni che non sono quotidiane, che non incidono nella quotidianità. Perché lei immagini se è possibile per una famiglia che magari in parte ha fatto il vaccino ma il figlio non è vaccinato andare in vacanza una settimana e fare ogni due giorni il tampone a una parte della famiglia o a tutta la famiglia. È chiaro che ci sono delle situazioni che creano un impatto. Io ritengo che poteva essere una fase gestita in maniera diversa.